Ma cosa? Uh! Sento puzza di console bruciate. Ciao! Thor! Siete qui per la connessione? Ho dovuto ricominciare da capo il gioco, non che sia stato un peso per me, diciamoci. Il gioco è uno spettacolo, ma vorrei arrivare a platinarlo. Non so se mi spiego. Allora. Ragazzi! Non ci credo! Il mio serpeverde preferito! È crosta! Il mio furetto è tornato! Anche il furetto, per l'amor del cielo, ti sei bezzuto il cervello! È crosta, non è un top! Allora, sentite, vi presento i miei amici, Felpato e Ramoso. Viva Hogwarts! Viva, viva! Sì, viva Hogwarts! Ti unisci a noi? Sconfiggiamo, tu sei chi, insieme. Thor, è tornato? Tornato! C'è di nuovo che rompe scatole di ieri sera. Potter puzza! Tasso frasso, zero due. Esatto, la vecchia volpe. Mi ha chiamato mezzo sangue. Dallo a me. Tasso frasso, sono Thor, ricordi? Il dio di Hogwarts, se non lasci finire al mio amico la missione, prenderò la mia nuova Nimbus 2000, volerò dritto a casa tua e quando sarò lì, prenderò la bacchetta e ti lancerò una vada che d'avrà! Oh, sento un po' puzza di paura, vero, Potter? Ora sparisci. Grazie, Thor. Fammi sapere se ti richiama così, ok? Non penso lo farà. Volete qualcosa da bere? Abbiamo tutti i gusti più uno. Mi fa sempre ridere sta battuta. Devi uscire di casa. La gente dice che parli in serpenteese o... Beh, a che serve uscire? Tra poco riuscirò a sconfiggere, tu sai chi. Dici Voldemort. Non pronunciare il suo nome in questa casa. Eh, sì, non pronunciamo quel nome qui. In Hogwarts Legacy, Voldemort... Non esistono. Ok. Bella, il video finisce qui, grazie per l'attenzione. Mettete un like. E... Cliccate dove c'è la parola iscriviti. Ottimo! Grazie. E... Viva Hogwarts!